La terza regolare di questa prima partita di finale allievole femmine, le prime due si qualificano, forza ragazzi adesso tutta! E andiamo verso la confusione di questa batteria, 2-3-3 si qualificano, e andiamo a chiedere chi si qualifica. E arriviamo con questa seconda batteria partita in maniera assolutamente regolare, anche qui le prime due passano in finale, stiamo correndo per prendere uno dei quattro posti disponibili per la finale. Siamo verso, entriamo verso la punta finale che porta su un'ottima batteria, sono quattro vicinissime, vediamo un po'.